Estra produce energia pulita. La Multi Utility nel 2021 ha aumentato del 6,2% la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un valore di oltre 32.000 kWh. Estra dà valore al proprio personale. Nel 2022 sono state 28.953 le ore di formazione, una media di 34 ore per dipendente. Estra ha 821 dipendenti. Rinnovato lo store Estra di Camucia nel comune di Cortona, nello store si possono sottoscrivere offerte di gas e luce, ottenere preventivi e consulenze e i clienti Estra possono sbrigare tutte le pratiche. Inaugurato a Prato con il contributo di Estra il nuovo parco giardino Alda Merini. Il nuovo intervento di forestazione urbana con la piantagione di alberi di diverse specie fa parte del programma Prato Forest City. Grazie a tutti.